Musica Attimi di panico ieri intorno alle 17 in piazza Santa Caterina. Un uomo di circa 40 anni con evidenti problematiche è entrato nei locali dell'ex anagrafe al secondo piano, ha aperto la finestra e urlando qualcosa di incomprensibile minacciava di lanciarsi sotto. La fortuna ha voluto che in quel momento stesse passando una pattuglia della polizia municipale in moto. La freddezza e la tempestività sono stati fondamentali. Il giovane deve la vita ad uno degli agenti che prontamente l'ha raggiunto e bloccato. Tutto si è risolto per il meglio grazie anche ad una conoscente del protagonista che ha tranquillizzato il giovane. Musica E' intensa l'attività dei carabinieri volta a garantire la sicurezza dei cittadini. In particolare, il comando provinciale dei carabinieri di Sassari sta portando avanti la campagna di divulgazione informativa come già aveva fatto l'anno scorso. In tutto al nord Sardegna saranno distribuiti un deplian e un manifesto, attraverso il quale i comandanti delle compagnie incontreranno i cittadini in parrocchie, circoli e altri centri di aggregazione. E spiegheranno loro i modi più efficaci per prevenire ed affrontare le problematiche del vivere quotidiano. Risponderanno anche ad eventuali quesiti sul come affrontare i problemi di pubblica sicurezza, come aggressioni, furti e quant'altro. A tutti gli operatori che lavorano nel sociale ed ai parroci sarà inviata una lettera nella quale si chiede che si facciano portavoce del desiderio dell'arma di incontrare la collettività per la promozione della legalità e lo sviluppo sociale. Saldi senza soldi Saldi senza soldi sembra essere il tormentone della stagione. In tempi di crisi si fanno i conti al centesimo e anche i saldi non sembrano dare troppo ad affari ai sassaresi, come del resto a tutta l'Italia. Certo, qualcuno non rinuncerà ad acquistare qualche capo, magari ad occhiato da tempo è troppo costoso. I saldi non faranno miracoli, ma se col maglioncino ci piace tanto, anche 10 euro in meno rispetto al costo iniziale possono fare la differenza. E ne siamo certi, anche se quasi tutti faranno a meno di fare grossi affari, qualcun altro non rinuncerà allo shopping tra i negozi, alla ricerca di qualcosa per vestirsi da capo a piedi, accessori compresi, è ovvio. Saldi senza soldi Saldi senza soldi L'istrice africano è un roditore terrestre. La pelle è ricoperta da aculei che raggiungono una lunghezza diversa in base alla specie. Inoltre le aculei vengono utilizzate per la difesa. Essi infatti caricano il loro aggressore facendo una retromarcia molto veloce. Hanno un peso di circa 30 kg e una lunghezza di un metro, esclusa la coda che è lunga circa 8-17 cm. Vivono in culiculi e fessure del terreno che spesso scavano da soli. Sono animali tipicamente erbivori. Le femmine partoriscono uno o due piccoli con una gestazione dai 90 ai 112 giorni. Le femmine partorisono uno o due piccoli con una gestazione dai 90 ai 112 giorni. Le femmine partorisono uno o due piccoli con una gestazione dai 90 ai 112 giorni. All'interno della basilica di Nostra Signora di Tergo è conservata una lapide marmoria romana. La presenza dell'impero romano d'Oriente è confermata dai risti murari di fondamento dell'ex monastero. Ma soprattutto dal fatto che la chiesa è stata titolata Maria Rosa di Gerico, titolo prettamente bizantino sconosciuto nella liturgia latina. Dopo lo scisma d'Oriente del 1054, i monaci di rito orientale, non volendo accettare il rito latino, tornarono alle loro terre. Quindi i monasteri furono adatti alle casate giudicali, le quali a loro volta li donarono ai monaci occidentali e Tergo fu donato ai monaci di Monte Cassino verso il 1080. Nel 1117, il giudice Costantino di Torres, succeduto a Mariano, ampliava e migliorava la chiesa. Il monumento religioso di stile romanico pisano è stato costruito in concidi tra chita e rossastra e bianche pietre di calcare. L'attuale facciata, priva di fastigio, forse crollato nel XVII secolo, conserva una ricercatezza alquanto insolita. Le affinità di stile con la chiesa di Saccargia dei Camaldolesi fanno pensare che l'idiatore fu lo stesso architetto, cennonostante Nostra Signora di Tergo appare più raffinata nell'ornato delle forme architettoniche. Questi rilivi stilistici fanno pensare che la chiesa sia stata consacrata probabilmente nel 1127, sotto il regno di Gonari II. Grazie alle sue ricchezze divenne ben presto l'abbazia più importante dei monaci benedittini di Monte Cassino della Sardegna. Da essa dipendevano tutti i possedimenti cassinesi del regno di Torres. Nel 1420 l'abbazia risulta abbandonata. Il papa, nei 1443, donna e beni all'archidiocese di Sassari. Successivamente subentra la diocese di Ampulios e Civita, come risultata la bolla di Giulio II del 1503 e il suo vescovo continua ancora oggi ad avere il titolo di Abate di Tergo. Nel 1664 veniva chiamata a Casa degli Angeli, luogo cioè di preghiera. In quell'anno il sassarese Lorenzo Sampero del Clero Torrittano, vescovo di Ampulios e Civita, restaurò questa chiesa, come ci conferma l'iscrizione ancora esistente, nella cappella a destra della navata. L'abice della Romanica fu demolita e si costruì l'attuale presbiterio, il quale si presenta con la volta a botte e i muri di pietra non lavorata. L'interno più antico è una navata, alla volta a capriate e il paramento di tracchite a vista. I numerosi graffitti che si trovano nell'arco d'ingresso pare che risalgano al Medioevo e la loro forma ricorda l'impronta di un sandalo, come a sottolineare un pellegrinaggio compiuto al santuario. L'interno più antico è un pellegrinaggio compiuto al santuario. Oggi si festeggia a San Bernardo da Corleone, il frate Buono. Il sole sorge alle 7.49 e tramonta alle 17.17. La luna leva alle 21.07, cala alle 9.23, gibosa calante. Domenica 15 gennaio alle 18.30 al Centro d'Arte e Cultura Giuseppe Biasi verrà inaugurata dal critico Francesco Ledda la mostra di modellini aerei della Seconda Guerra Mondiale, collezionati da Alfredo Poppa. Le domande per l'assegnazione delle borse Erasmus devono essere presentate entro le 12 del 23 gennaio prossimo. Il modulo è scaricabile dal sito www.unis.it slash applicazioni slash erasmus.php Oggi alle 18.00 verrà inaugurata la rassegna internazionale di fotografia meno 3103, promossa dall'Associazione Culturale Supalatu Fotografia al Museo d'Arte del Novecento nell'ex convento carmelitano in Vialomberto fino al 26 febbraio. Oggi andrà in onda sulla nostra emittente il programma Allegra Goro condotto da Alfredo Nieddu a partire dalle 20.30. Oggi resta aperta con orario continuato la farmacia Pilu in via Gurizia dalle 9.10 alle 20.00. La farmacia notturna Carboni di Piazza Castello effettuerà l'orario notturno dalle 20 alle 9.10. È sempre a vostra disposizione la rubrica Dillo a TeleG. Per segnalazioni potete contattare il numero 26 11 50, scrivere a infochiocciolatelg.tv oppure visitare il sito www.telegi.tv Il tempo previsto per domani, venerdì 13 gennaio. Cielo, nuvolosità compatta. Venti prevalentemente moderati da sud-ovest con intensità di 23 km orari e raffiche fino a 26 km orari. Mari, poco mossi o mossi, altezza dell'onda da 48 a 70 cm. Temperatura dell'acqua in superficie 14,8 gradi centigradi. Temperature stazionarie. Sassali, minima 5, massima 11. Alghero, minima 3, massima 12. Porto Torres, minima 8, massima 13. Ineight quá Morocco zождata, 38, massima 12. Geri, plaguethese, pentru a vede 16. In dyeesa. Saar Revisione Ilhamen